Una serata per festeggiare i 14 anni in una cornice magnifica come il Museo di Santa Giulia e quella nata in scena a mercoledì 13 novembre che ha avuto come protagonista il consorzio Brescia Centro. Questa serata volevamo dedicarla a noi stessi, quindi a noi commercianti che teniamo duro anno dopo anno all'interno del centro storico. Abbiamo avuto la fortuna, grazie all'amministrazione, grazie a Brescia Musei, di sfruttare questa bellissima location ed è una festa, non c'è fondamentalmente interesse migliore che l'incontrarci, trovarsi insieme, parlare, capire quali sono le difficoltà e come superarle insieme facendo gruppo. Tanti progetti venuti alla luce, tanti i progetti pronti a nascere. Attualmente siamo tra i 130 e i 140 negozi perché ovviamente c'è chi ne perdiamo qualcuno, ne riacquistiamo altri. Devo essere sincero, sono molto contento perché si stanno iscrivendo nuovi negozi di varie categorie, non solo abbigliamento ma anche negozi di concept, qualcosa di differente e soprattutto tanti ragazzi giovani di cui abbiamo bisogno per cercare di svecchiare un po' anche quello che è l'idea del commercio. Brescia App, che è l'applicazione che è stata fatta sempre con Brescia Mobilità e col Comune di Brescia, porta a quello in cui viene legata sia la mobilità sia lo shopping per far capire che lo shopping non è solo e-commerce ma può essere fatto di alta qualità soprattutto all'interno dei negozi. Una serata di festa nella quale i vari commercianti si sono incontrati per conoscersi meglio, chiacchierare in modo informale tra di loro e brindare per questo compleanno. Sì, secondo noi la cosa più importante è che spesso i commercianti sono visti come entità a sé, tutti slegati fra di loro, la cosa che per noi è importante è fare rete e far capire che siamo molto uniti tra di noi e anche tutte le nostre campagne marketing, come vedrete quelle già passate 4-5 anni fa e quelle che usciranno saranno tutte legate comunque a delle intenzioni in sinergia tutti insieme con la voglia di dare un servizio migliore, con la voglia di far capire come venite abbracciati se entrate in un negozio del centro dalla professionalità e dalla qualità del servizio che noi possiamo dare.